in collaborazione con studio q consulenze finanziarie con antonello cattani parliamo oggi di spread negli ultimi tempi si è ripreso a parlarne che cosa sta succedendo se diciamo che a partire da dicembre è un po che non se ne parlava siamo tornati un po agli numeri delle cronache diciamo che i motivi per cui se ne ripresa parlare sono sono diversi diciamo abbiamo un motivo che politico quindi diciamo che verso dicembre ha emerso il timore che draghi potesse diciamo abbandonare l'esecutivo e questo quindi per i mercati poteva costituire un elemento destabilizzante poi con l'elezione la conferma di mattarella questo allarme diciamo è rientrato quindi al momento diciamo il motivo politico è rientrato c'è però anche un altro motivo invece un po più tecnico che questo invece potrebbe anche nei mesi prossimi pesare che quello legato agli acquisti da parte della bce come vediamo in queste diapositiva quindi da bce ha già annunciato che ridurrà il programma di acquisti che dura da anni di titoli di stato che al momento ha costituito un elemento di stabilità il venir meno comunque la riduzione di questa politica di acquisto di titoli dello stato italiano da parte della bce potrebbe nei mesi prossimi creare instabilità quindi questo è un altro motivo che ha pesato e potrebbe anche pesare nei mesi successivi in concreto catani cosa significa per un risparmiatore l'aumento dello spread allora diciamo che come vediamo in questo grafico ancora l'aumento è abbastanza impercettibile perché siamo passati da 100 punti a 130 140 quindi siamo ancora a livelli ben lontani come vediamo dalle punte del 2020 quando è scoppiato il covid o dal 2018 quindi diciamo che siamo ancora a livelli di abbastanza tranquillità però allo stesso tempo è bastato un piccolo aumento dello spread per determinare un caldo delle quotazioni se vediamo questo esempio pratico ad esempio proprio di un btp decennale perché lo spread non dimentichiamo è la differenza che l'italia deve pagare sul proprio debito a dieci anni rispetto alla germania quindi se prendiamo un btp decennale acquistato un anno fa prezzo 111 oggi il mercato dice che il prezzo è passato a 103 quindi ha avuto un caldo circa di otto punti percentuali solo in parte compensato dalla cellula incassata quindi diciamo che se il risparmiatore che avesse fatto questa operazione un anno fa volesse fare un bilancio dell'anno dovrebbe un segno meno cioè la quotazione è calata e la cellula non ha coperto questa quotazione e questo si riflette anche ad esempio per chi detiene e forse la maggioranza degli risparmiatori fondi di tipo obbligazionario che fotografano la stessa identica situazione infatti come vediamo in questo esempio sia che guardiamo un anno ma anche con scadenze più corte vediamo come prevale il segno meno dimostrazione che un aumento dello spread determina un calo della quotazione dell'investimento che abbiamo sottoscritto ecco cos'è bene sapere soprattutto per chi detiene fondi di tipo obbligazionario visto che i fondi sono dei contenitori di obbligazioni barra titoli di stato quindi bisogna sapere alcune informazioni quindi la prima capire dentro a questo contenitore le scadenze che ci sono delle obbligazioni perché più sono lunghe più il rischio di vedere erodere il valore degli investimenti è alto quindi questa è una prima valutazione la seconda è anche quella un po' legata ai costi perché questo tipo di investimento a fronte di rendimenti molto molto bassi continua a presentare un'incidenza di costi che talvolta erode ulteriormente gli investimenti quindi consiglio di fare attenzione e di valutare attentamente questo tipo di investimento quali consigli possiamo dare ai telespettatori ma è quello di farsi aiutare fondamentalmente in due modi quindi primo rivolgendosi al nostro studio quindi prendendo anche un appuntamento il primo è gratuito proprio per vedere insieme ad esempio queste cose che abbiamo questi aspetti che abbiamo appena detto il secondo noi stiamo continuando sul territorio alla nostra collaborazione con associazioni culturale tra le quali un i tre che è una bella realtà a reggio emilia che è recente quindi ogni terzo venerdì del mese quindi il 18 febbraio alle 15 faremo l'incontro mensile dove si può partecipare liberamente quindi si può venire partecipare poi se piace si può continuare oppure no dove parliamo proprio in presenza con la massima sicurezza quindi nel rispetto di tutte le norme vigenti e quindi in presenza diciamo c'è anche una possibilità di fare domande e scambiarsi opinioni e quindi acquisire nuove conoscenze quindi l'invito se volete il 18 febbraio venerdì alle 15 in via roma quindi in pieno centro a reggio per soli i tre parliamo di questo e altre tematiche